Grazie a tutti! Le immagini sono tutte dedicate al gioco, vedete che i calciatori hanno anche reclamato un fuorigioco, ma ancora qui vediamo le immagini del gol, adesso al rallentatore, appare subito che non c'è il fuorigioco. Da questo fermo immagini si può vedere benissimo che il gol era regolare, vedete che il calciatore è ampiamente dietro i difensori della squadra avversaria. Sulla vostra sinistra dei teleschermi, arrivederci a tutti da repassare il capitano.